Uomini e donne, Ursula e Sossio vicini al matrimonio? Lui sorprende tutti. Eravamo proprio convinti che, dopo la tremenda esperienza Temptation Island VIP, per Sossio e Ursula non ci sarebbe stato nessun futuro e invece in quest'ultimo periodo ci stanno sorprendendo parecchio. Perché? Tra i loro progetti futuri c'è il matrimonio. Precisiamo e Sossio ha ruta a volersi sposare quanto prima con Ursula Bernardo, visto che quest'ultima non si fida ancora completamente di lui. Però è vero che il sentimento nei suoi confronti non è cambiato. Lo ama nonostante quello che è successo a Temptation Island. Ha provato a conoscere alcuni cavalieri del trono over di Uomini e Donne, ma tra i suoi pensieri c'è sempre stato lui. E non ha mai nascosto quel sentimento che ancora prova.La proposta di matrimonio di Sossio a Ruta a Ursula Bernardo periodo di grandi promesse, questo. Nicole e Fabio hanno fatto delle confessioni importanti e lo stesso ha fatto Sossio a Ruta attraverso il suo profilo Instagram. La prima grande novità di Sossio di Uomini e Donne è quella riguardante la carriera da calciatore La mia avventura calcistica continua. Punto alle soglie dei 48 anni, firmato l'ennesimo contratto calcistico con il Grottaglie. E ricomincia l'inseguimento per i 400 gol in carriera. Meno 23 al traguardo. La seconda, quella più importante, riguarda la proposta di matrimonio a Ursula Il destino ha voluto che mi avvicinassi a te e ora aspetto solo il tuo sì, per sempre.News Uomini e Donne cosa sta succedendo? Ursula sarà pronta a fare il grande passo? Ha ancora delle riserve nei confronti del calciatore. Anche Gemma Galgani che è stata ultimamente distrutta per il suo lavoro non riesce completamente a fidarsi degli uomini che la corteggiano. Situazione diversa, invece, quella del trono classico. Le ultime anticipazioni ci hanno rivelato delle dinamiche che sicuramente vi lasceranno senza parole. O ormai vi siete abituati ai colpi di scena di Uomini e Donne? Grazie a tutti.